buongiorno Gianna buongiorno a tutti buongiorno vuoi anche non mettere la cuffia non ti serve mi sembra si sente bene si sente molto bene vieni solo un po più vicino al microfono per cortesia è che non siamo più abituati a avere ospiti ricominciamo con te e quindi insomma mi sembra bella questa nuova sede no vedo hai visto che roba eleganti ma poi di luce abbiamo speso un sacco di luci qua capito si saranno bello speriamo come stai innanzitutto bene un po sentito un po di polmoni in disuso ho saputo che hai preso una brutta raffreddata girando il video di cui sei anche la regista di questa perché ho sempre questa idea per non prendere freddo ho avuto l'idea di registrarlo in una galera in disuso che quella del peschiere del garda che sotto terra fa un freddo pazzesco come dite voi una frescata si dice si dice una frescata diciamo presso freddo presso freddo di cosa parla il video è abbastanza didascalico rispetto alla canzone o invece non l'ho finito devo fare il montaggio però l'idea di fare la regia è semplicemente per avere un punto di vista anche mio ogni tanto perché io lascio molta libertà ai miei registi di video è la prima volta la prima volta ovviamente sono un incapace ma come hai fatto per orientarti hai visto come facevano quelli che ti hanno diretto le altre volte no a parte ovviamente ci sono dei collaboratori fondamentali certo è importante a quel punto avere un operatore bravo al quale tu dici guarda un'ora di inquadratura come questa io sono partita dall'editing ho fatto il finale diciamo ho fatto il video dall'editing come si può dire un po a fortuna no ho tagliato dei pezzi l'ho messo nella canzone e quindi abbiamo registrato tutti i pezzi dell'edit prima di tutto senza perdere tanto tempo quando è finito te lo dico ancora non ce l'ho devo finirlo senti quando ti fidi ti fidi tu fondamentalmente non ti fidi di tutti ma quando ti fidi ti fidi quando mi fido mi fido per esempio in questa canzone c'è il testo che di tiziano ferro non è la prima volta credo la prima volta perché è venuto da lui questo desiderio di fare una cosa con me o per me e colto la palla al balzo perché la natura è favoloso e poi questo testo tu avevi già un pezzo che mancava il testo o gliel'hai costruito sopra la musica mancava il testo è la prima la prima canzone che ho scritto e quindi la prima sempre la prima era un po un imbarazzo e lui mi ha tolto dall'imbarazzo e ha rotto il ghiaccio bello senti invece le altre canzoni ho visto che hai pescato tra amici insomma Isabella Santa Croce con cui si veniva da un sacco di tempo Pacifico Gino soprattutto con questo disco ci siamo affiatati più che mai comunque come l'hai chiamato scusami io sono curioso Gino 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 Pacifico Gino e Gino ah vedi che adesso lo sappiamo la prossima volta che viene con altro che pacifica o è Gino ok ok come Gianna ma è giusto Gino e Gianna fate anche una bella coppia se ti stai seguendo a distanza insomma le avventure della tua città la mia città è un casino si ho visto è un casino io mai sono di Fontebranda più che di Siena sono nata a incontrare purtroppo è un successo questa cosa insomma che non è adesso al di là diciamo della disavventura del monte però tutta la città sembra in un momento un po di difficoltà le squadre di calcio di basket ora io tanto non ci vado per il vivo a Milano però credo ci sia un ambiente un po cupo ovviamente è una come si può dire una disgrazia senti è soltanto un problema economico o è uno di quei periodi che purtroppo nella storia succedono quando uno parla di un argomento deve esserci dentro se poi si parla di musica da quant'è che non ci vai a Siena? ma ci vado ma non ci vado poco non entri nella vita sociale insomma come sta a tuo fratello? ma è trovare la nonna? si sarebbe la mamma della mia figliola la nonna ah la nonna ah ok mi sembrava si tuo fratello come sta? bene grazie sta a Siena lui? lui sta a Siena è rimasto lì insomma portare avanti il nome di famiglia lui va avanti come si dice senti parlando di sport invece è vero che hai fatto un incidente con la mountain bike che ti sei fatta male questa estate? ah quella del cinghiale? eh come quella del cinghiale? l'avevo letta questa estate sono fatta male mentre stavo facendo il disco si vedo ti vedo interessato ma no perché voglio sapere quella del cinghiale è preoccupato per il cinghiale è un sacco di cose che mi incuriosiscono cosa ha del cinghiale? no era in vacanza stavo facendo testi del disco dove eravate? localizziamo Maremma 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 quindi cinghiale ci sta casa loro ma voglio sapere in che modo il cinghiale entra nella dinamica dell'incidente perché? entra perché ci sono questi piccoli viottoli si vengono attraversati dai cinghiali dai cinghiali dai mali liberi certo quindi per evitare di attraversarlo di metterlo sotto certo sono caduta io e ho rotto il malleolo ah mannaggia il malleolo è un altro caviglia aiuto vicino alla caviglia quindi praticamente ho dovuto cantare la prima parte su una gamba su una è come cantare su una gamba quindi se hai visto Tiziano Ferro a settembre facevate una bella coppia giusto giusto è successo anche lui ma non è che ce la siamo mandata perché Gianna non si canta seduti no tu non canti no diciamo che ho dovuto cantare con lo sgabello un po' storta però mi hanno detto che Kimmigia che canta sempre sullo sgabello ho detto vabbè probabilmente si canta bene perché i primi pezzi li ho cantati tutti così ma pensate anche la nostra storia è uno dei primi che ho cantato senti il disco si chiama Inno come la famosa canzone di cui si è molto parlato ma chi ha chiesto a chi? cioè Ebersani che ha chiesto a te o il discografico che gli ha offerto la canzone a lui? prima di tutto questi politici di solito chiedono canzoni vecchie o nostalgiche è un po' strano come meccanismo questo infatti non siamo alla novità ho detto ma se ne intende questo fa perché vuol dire un pezzo è uno degli ultimi nostri con la modestia che la contraddistingue è comunque in effetti va a pescare è il mio preferito dell'album ho detto perché no? bello non ti ha messo in imbarazzo anzi ne sei anche contento per carità l'hanno chiesto bene allora mettiamo un'altra canzone dal disco questa si chiama Into the Rain credo In the Rain anche se in italiano dice una cosa che però in inglese potrebbe essere In the Rain cioè c'è un'assonanza il problema è che questa fosse già pronta per essere tradotta però ci sono delle canzoni che nascono proprio con una loro visione quindi mi sono vista questa scena sotto la pioggia e quindi non riusciva a trovare un titolo meglio che suonasse con questo tipo di visione però Gianna non è come dice Linus che il ritornello poteva suonare In the Rain perché in effetti anch'io ho avuto questa c'è una volta in riva che dice In the Rain ah ecco vedi 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 ok ok verifichiamo l'importante è che lo vedi l'ho sentito hai detto bene